Un tuo libro, che è questo i robot, ti ruberanno il lavoro, ma va bene così. Non dobbiamo avere paura di questo futuro così in cui cosa faremo? In passato si cercava di automatizzare funzioni meccaniche, manuali, abbastanza banali, che non andavano sicuramente a inficcere su la capacità cognitiva delle persone. Quello che ci distingue da una macchina molto rudimentale o dagli altri animali addirittura è la corteccia prefrontale. È un fazzoletto di queste dimensioni, organico, così arrotolato e pallottolato qua di fronte, che ci permette di fare delle proiezioni e delle estrapolazioni sul futuro. Questa sostanzialmente è l'unica differenza che abbiamo con le scimmie. Quando togli quella barriera tra umani e macchine, rimane molto poco. Rimane adesso e nell'immediato futuro solo la capacità generalista di risoluzione dei problemi. Se hai un lavoro o fai un'attività che richiede fare negoziazione o avere un rapporto più che si basa sull'intuizione delle intenzioni dell'altro, sulla emotività e avere questo street smart, cioè avere questa visione un po' al di fuori dagli schemi, quella è l'unica cosa che ancora ci differenzia le macchine. Per il resto sono software che stanno mandando a casa avvocati. Questa cosa succederà sempre di più, chirurghi. Adesso ci sono delle macchine che riescono a fare operazioni a cuore aperto e non sarà così lontano quando nessuno vorrà poi essere operato da un chirurgo umano perché ha una possibilità di errore superiore a quella di un'intelligenza artificiale che poi diventa democratizzata. Quindi il miglior software è a disposizione da chiunque nel mondo, invece il miglior chirurgo è a disposizione in un ospedale, in una città, e per quelle sei ore lì e poi quando ha finito deve andare a dormire. Quindi insomma ci sono dei grandi vantaggi che può portare a questo. Dall'altra parte chiaramente c'è questa perdita di milioni, centinaia di milioni di lavori a livello mondiale nei prossimi 15-20 anni, forse anche un miliardo di lavori secondo alcuni studi. Cosa rende i suoi robot così perfetti? Cosa li rende così maledettamente meglio degli esseri umani? Se il 50% della produttività di oggi si riesce a fare con le macchine, magari vogliamo aumentare le capacità di quello che riusciamo a fare di un altro 50%, ok, il 25% rimane ancora quello lì che utilizzi, quindi è il 25% che adesso continuerà a lavorare, ma l'altro 25% cosa fa? Quello 25% delle persone che prima lavorava adesso non lavora più e non serve più che lavora. Allora, ti inventi lavori inutili solo per mettere a queste 200 milioni di persone a lavorare oppure crei un sistema che fa in modo che queste persone non debbano lavorare per vivere, ma possono fare attività che vogliono fare per migliorare se stessi, per migliorare la comunità dove vivono, per spendere più tempo con magari aiutare gli anziani oppure i bambini. Ci sono milioni di cose che si possono fare quando si cambia la prospettiva di quello che la società pensa che tu debba fare. Eh sì, sentivo il complotto chiudersi intorno a me. Sarei stato stritolato da un meccanismo omicida. 8 ore di lavoro al giorno, 3 settimane di ferie l'anno. Avrei venduto l'unica cosa che mi era rimasta di mio oltre il culo, il tempo. Sarei diventato come lui. Oppure, se mi andava bene, mi sarei ritrovato a guardare la luna e a cantare canzoni d'amore ai viados sul lungo po'. Se tu guardi in Finlandia, stanno già pensando di fare un trial nazionale con un reito di base. Un reito di base è completamente diverso da dire le assistenze sociali per quelli più disagiati, perché lì vengono dati soldi a chi soldi non ne ha. E quello crea quello che viene chiamato la trappola dei benefici. Cioè, che se io ricevo, non so, 600 euro al mese per non fare niente e se vado a lavorare 8 ore al giorno, lavoro, paga minima, faccio 750 euro, qual è il mio incentivo per iniziare a lavorare? 150 euro lavorando 8 ore al giorno? E se non lavoro niente, ne faccio 600? Me ne sto a casa, mi prendo i soldi. Se invece io i soldi li prendo comunque, vado a lavorare, ne faccio 750 in più. Quindi 600 più 750, ok, allora già un incentivo. Quindi l'idea di un reito di base è molto interessante perché sposta la conversazione da un diamo i soldi ai poverini e a chi non ce la fa a creiamo un'infrastruttura che permette a chiunque di prendersi del tempo per esplorare, fare qualche cosa, per prendere dei rischi. Magari io voglio imparare una cosa che richiede 5 anni. Voglio tornare all'università a imparare chimica, per esempio. Adesso prendermi 5 anni per tornare all'università, insomma, non è facile, devi avere un tot i soldi da parte, non devi avere bambini, insomma, una sorta di cose che devi inquadrare, poi magari hai un mutuo, c'hai la casa di latte. Se tu hai un reddito di base che ti permetti di darti quel respiro per dire adesso prova a fare questa cosa. Oppure la cosa che puoi fare è, ho appena avuto un figlio, voglio passare il primo anno con lui, tutti i giorni. E questa cosa non si può fare adesso. Hai un po' di maternità, non so adesso se è uguale, in paesi nordici lo è, però si parla di, non so, due o tre mesi, quello che è. Poi se non ho, devo stare i primi due anni con mio figlio. Perché? Perché è importante, cioè, è la mia vita. E poi dopo, magari, quei due anni mi permettono di avere quella prospettiva e quella serenità di andare poi a fare qualcosa che ha un impatto incredibilmente positivo nella società. Cosa che invece non avrei avuto se avessi continuato a fare un lavoro del cavolo 6-8 ore al giorno, una cosa sostanzialmente rilevante che non avrebbe migliorato la vita quasi nessuno. Se vai a guardare i grandi geni della storia, non è gente che nasce con questo genio incredibile che avrebbe comunque trovato spazio ovunque, no, era, in maggior parte erano persone che hanno avuto l'opportunità, di solito grazie a un patrono, qualcuno che ha detto io ti pago gli studi oppure ti pago due anni, cinque anni, dieci anni per fare quello che vuoi. E poi queste persone qua sono gli Newton, sono gli Einstein e via dicendo. Questi qua sono quelli che hanno cambiato il mondo e un rate di paz permetterebbe a molti di più di queste persone di crescere e nascere. E secondo me questo vorrebbe un net positive nella società molto più elevato che forzare le persone a lavorare in un sistema semischiavistico con, ah, se non lavori sei in mezzo alla strada oppure, ah, dovrai avere 600 euro al mese di aiuti sociali, tutti ti vedranno come un fallito. Secondo me si può cambiare, si può fare di meglio. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che le crescere probabilmente è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare, ha otto ragione e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione. Se tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? È il vero schiavo? E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà.